Caffè? Vuoi caffè? Vuoi caffè? Come stai, amore? Amore, amore. Tutto qui? Il cervello? Nel cervello c'è la direzione centrale, decide, fai i progetti, i programmi e dai via la produzione. La produzione. Dividuo, no? Dividuo, entra in pista, si mette in movimento. I bracci, i gan, la bocca, la lingua, tutto. Metti in movimento e finché non agguanta il cibo, che è la materia prima. Ma che cos'è che dici? Uno. L'individuo ora per mangiare. Un bello scoperto, uè. Mangiare? Viene giù e qui c'è una macchina che schiaccia. Ed è pronto per l'uscita. Uguale che in una fabbrica. Eh. Le diritto è uguale alla fabbrica? Eh, allora? Fabrica di merda! Oh, merda, 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 questo frasaio qua di mattina presto! No, ma senti, senti, ma... Ma va, va, va. Ma scusa, ragiona, no? Ragiona, eh, piuttosto. Ragiona, eh, piuttosto. Ragiona, eh, piuttosto. Ragiona, eh, piuttosto. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti